Mañana, Q, davanti? No. Non ti gusta? Si, mi gusta, però... Falta grip. Dopo quince giri non so come sarà. Ah, ok. Per i primi dieci tiene grip. Anche gira bene, però... Anche in frenata molto bene. Però dopo... Ormai quando questa si consuma non puoi spingere, allora va a posto, sai? Si. Si, ma la mani le dai a gestire un po', eh? Al inizio, tío. Si no dopo il fisico, tutto... Eh, si. Dur, dur. Chissà se qualcuno mette il blando, trasero. Uh! Per me, oggi... Pensavo che arrivassi meglio. Ah, è un disastro, un disastro. Anche io, anche io. Anche io. Vabbè, vediamo. Quello che fate tutti faccio io. Stavolta sì, eh? Stavolta non cambia. Stavolta sì. E' la cosa migliore. Anche se va sulla sonda avanti, metto sonda avanti. E' la cosa migliore. Eh, ma è stato veloce, eh? 30 a basso... Puttana! Molto. Bua! Con il caldo che hace... Bua! 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 Si è beneficial! Ho fatto un po' a' da' un predo della... Si! De la leggi. Ehi. Grazie.